Dario, ti hanno mai mandato le puppe? No, devo dire di no Ma che cazzo? Deve vero? Ma sono mai arrivati Nessun tipo Ok Cosa? Non ci credo mai nella vita Giuro, morissi, amore Ok Ma chi vuoi me le mandi a me? Dario, se vuoi ti mando il pipo No, no, sono a posto, grazie Cosa risolvi quando andando la foto del cazzo? Non so, non lo capisco e non lo capirò mai, sinceramente Rewatch dei cesaroni? No, sono a posto, va bene Sai cosa c'è? C'è una gira Sai che cosa? Branciamore? È sessodipendente Mi dispiace per lui, se sta male Ha dichiarato lui Ecco qua No, era malato, ora non è più Ah, non è più, non è più Leggiamo insieme quest'articolo Dai, amore I cesaroni Matteo Branciamore rivela Ero malato di sesso Matteo Branciamore ha recitato nel ruolo di Marco dei cesaroni Pentone, bicchietti Il sesso Ma cosa? Mi pare anche, mi pare anche cosa Non sto scherzando Bocelli No, ma l'hai già detto, amore Non ti dimentichi le cose Le confessioni erotiche di Andrea Bocelli Amore, te l'hai già letto anche No, non l'ho letto Sì Ma poi comunque non c'è più l'articolo Attenzione Bocelli, sono stato nel gorgo del vizio Ricordo tutto ciò che ho visto Ma Dai, amore Ma è strano, mi dichiarazione Ma quello che conta è capire Vabbè, non ho voglia Comunque, insomma Ma poi perché l'hai dovuto mettere? Non si capisce Vedi? Andrea Bocelli Libertino Mi ha salvato mia moglie Il tenore ha svelato di essere guarito da questa dipendenza Dopo aver incontrato la moglie Veronica Ti avrei superato la sua dipendenza del sesso grazie a Lutera Grande Grande Bocelli che ce l'ha fatta Grande Veronica che l'ha aiutato Mattia Ah Ti metto l'anedoto da raccontare Sentiamo, amore Allora, la prima volta che sono venuta al Nerd Cultura Day Al primo Nerd Cultura Day, no? Hai fatto una conferenza Ok E io, pur di parlarti in qualche modo Ok Ho alzato la mano nella tua conferenza e ho detto Tipo, cosa ne pensi di Grazie a Romero per l'euro Cosa ne pensi di Non ne so Di Akira Oppure tipo Non mi ricordo, una domanda su Akira Vabbè E te mi hai detto Ma cos'hai fatto? Perché te hai letto il manga E ti ho detto No, lei ho visto il film E te hai iniziato a urlarmi E hai detto No, devi leggere il manga Hai capito? E poi ti ho trombato Sì Ok, grazie a Gorleo Per i cento video No, poi quella sera lì Avevo un po' bevuto Ok, vuoi raccontare tutto Non raccontare tutto proprio Non è successo niente per la sera No, no, ho capito Però Grazie a Marco Oscar 97 per l'euro No, vabbè Avevo un po' bevuto E semplicemente Mi ero accasciata su un divanetto Lì alla Villa del Colle Perché ero un po' assonnata e tutto Ok E te sei arrivato E tipo Mi hai fatto Oh, alzati un po' su Dai E poi sono andato via Io così Ah, ok Cioè solo per romperti gli oglioni Prudente Sì Ci stava provando Assolutamente sì Ma infatti c'è No? In quel momento no Perché dormivi accasciata su un divanetto Cosa cazzo facevi? E perché allora mi hai dovuto Se hai dovuto venire lì a dirmi così Scusa, eh Per ridere Per fare una battuta tutti insieme Pensavo ci stessi provando Che ho sbagliato tutto Nella vita Ma no, amore Cioè stavo ancora con la mia ex Se mi beccava Anche io stavo ancora con la mia ex Ed era lì Non lo so, appunto Neo No, amore Ma io Mi hai scappato Dai, il colonna Batte alla porta Apri subito No, sta bene dove sta il colonna Sinceramente Comunque non vedo l'ora Che mi arrivino le pizze suggelate Perché finalmente posso mangiare una pizza Arrivano fra sette Fra otto giorni Però arrivano Sai che non sopravviverò mai Per otto giorni Con la roba che abbiamo Sì Per otto giorni Ma ma ci sa Perché? No, amore Se il match si fa tranquillamente Ma ci sa La pasta La pasta Ma la pasta Non è che la mangi mattina e sera Raga Cioè A pranzo e basta La pasta A pranzo e basta A pranzo e basta la pasta A pranzo e basta la pasta Dai, costa mille euro Una caricatura Una caricatura ragazzi Mille euro Per te free Soltanto 800 Guarda Ma lo puoi capire che sei bellissima Dai amore Non la sdrizzare Poverina No, no, no Sorelle Sono figlia unica Purtroppo Mi spiace Che poi non è detto che le sorelle assomigliano Magari non c'è esso Magari no Sarà la gemella Ma anche i gemelli possono essere eterozigoti Non è detto che siano uguali Guarda Guarda com'è incazzata Ma perché se la prendi da sopra Sembra incazzata Se si Cioè Se alza la testolina Non sembra più arrabbiata Guarda Che Mille Se li fa così Dario ti sei pulito il culo? Sì Ma perché ora tu ti preoccupati per questa cosa? Agnese Ti piace la pasta ai muscoli? In realtà l'hai mangiata No Quella era alle vongole Quella la mangiata domenica Sì ma era alle vongole Non era ai muscoli Vongole e pistacchio Sì buonissima Dio me o Dio Vi banno cazzo Dario Ma Ho appena lanciato un'onda energetica dal culo Che male Va bene con questa massima Io vi lascio andare Arco Dio non è male come Arco Dio Stupendo Sì Per favore lo farò ragazzi Lo farò sicuramente Uguali E infatti ho iniziato a streamare di più senza dubbio No no ragazzi no No Non voglio No No Grazie a Davide per lei No 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 Magari mette la grande botta a parlare Dai dai vi mando la cubista Dai Ma vuole basta dire così Non è cubista Vabbè ho capito Soprannome lo do a tutti cazzo Oh mamma mia Il vikingo invece era Ma che cazzo vuol dire Il vikingo era davvero Ma non era un vikingo Mi farei scozzese Baolo Ma questa magliettina Ma che carina Quella bustittura Ma come si fa a fare cose del genere Ma io Vuoi capire che queste Queste bombe atomiche No come che le chiamavate prima Di nuovo un altro nome Queste Porto d'armi No per questo ci vuole porto d'armi Va denunziata la polizia Questa forma Amore lascia stare quel nasetto Come sempre Mi sovrasterò Soccuata Amore ma perché mi stai toccando dappertutto stasera? Tu mi fai schifo Non ti tocca Ma ho detto quello Amore Arri La Mulan La Mulan Mulan mi devo ricordare Se è una simple Devo capire Cos'è una simple Una misura Agnese Com'è vivere con un ragazzo Con bisogni speciali? Non offend Mi bello Perché mi sento Con aiuto Tarzan e Jane È vero Se rimaniamo Un po' offensivo Però che Tra l'altro Devo iniziare domani Il terzo volume Di Di zia Teresa Delle indagini Zia Teresa Aia Ah ma Sei fuori Vi giuro ragazzi Vi giuro Che se Alla prima maratona Dello studio Raggiungiamo la cifra Del Keishon Del Keishon Lo compro per metterlo Come tappeto Sotto al tavolo Dove io e Masella Faremo le dirette Dello studio Ve lo prometto Ora devo vedere ancora il prezzo Però vi giuro Che lo faccio Dove io e Masella 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 pizza morte pizza morte un canale pieno di sorprese pizza morte